E' appena terminato l'incontro Bergamo Calcio 5, Rho Calcio 5, valido per il campionato allievi regionale. E' con noi Gianluca Cutter, oggi è il suo esordio come portiere. Chiediamo a lui un commento mentre stiamo vedendo le sue parate. E' stata una bella partita, abbiamo fatto un buon gioco, un buon possesso palla, abbiamo fatto giocare pochi nostri avversari e credo che come esordio non l'ho fatto proprio schifo. Bene, come ti è sembrato in queste prime settimane giocare a Calcio 5? Mi sono trovato davvero bene anche con la squadra, mi hanno fatto subito entrare nel gruppo quindi devo dire che mi è piaciuto molto. Il prossimo appuntamento sarà sabato prossimo contro un'altra temibile avversaria, il Cometa. Dici un po' cosa ti aspetti da questa partita? Ovviamente di vincere perché siamo forti e spero di fare una bella partita come quella di oggi. Ok, salutiamo Gianluca e diamo l'appuntamento sabato prossimo. Ciao! Passiamo ora la parola a un giocatore del Rock Calcio 5, Matteo Marazzini. Anche a lui chiediamo un commento sulla partita. E' stata una partita difficile perché a parte non avevamo il portiere, gli avversari erano molto forti, abbiamo avuto anche difficoltà a gestire il pallone sul parquet perché scivolava molto. Ok, salutiamo Matteo e diamo parola a un suo compagno di squadra. Ciao! Passiamo a Luca Bonomo, autore oggi di una buona prestazione, mentre vediamo le sue azioni e chiediamo un commento anche a lui sulla partita. E' stata una partita molto pericosa, hanno stato molto bravi i ragazzi del Bergamo perché anche noi di testa non c'eravamo molto e avevamo anche il problema del portiere che non siamo ancora riusciti a trovare, quindi giochiamo sempre a giro con un giocatore. Tra le varie squadre che avete incontrato, qual è che ti è sembrata la migliore? Eh, senz'altro il Bergamo è stato anche una delle migliori, però c'è anche la squadra del Lazzaretto che ha buone prestazioni e la squadra è molto compatta, quindi è sempre buona probabilità di vincere le partite. Ok, ringraziamo Luca e diamo appuntamento a lui e agli amici del Rò al torneo primaverile. Grazie, ciao! Grazie a tutti!